Sport, turismo, bellezze naturali, mozzafiato, prelibatezze gastronomiche locali, tutto questo è stato Onda d'Urto, l'evento che ha portato sulle montagne della Sila Crotonese un centinaio di atleti di mountain bike. Vediamo insieme. Si chiama Onda d'Urto ed è un circuito regionale di mountain bike che ha tenuto la tappa conclusiva al villaggio Palumbo. Numeri da record per la manifestazione nella Sila Crotonese con oltre 300 partecipanti. Un fiume di bikers provenienti da ogni parte della regione e qualcuno anche da fuori Calabria. Mozzafiato il percorso scelto e preparato in cui i bikers hanno avuto bisogno di gambe e polmoni, godendosi nello stesso tempo le bellezze naturali che la montagna crotonese sa offrire. Abbiamo visto un percorso bellissimo, d'altronde essendo dalla Calabria questi posti li conosciamo benissimo, da qui potete vedere la vista, anche la giornata di oggi è meravigliosa, vi posso garantire che fare un giro in questa giornata, in questi percorsi è qualcosa di meraviglioso. Sì, sì, tutto, 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 mi piace questo posto e penso che magari questo posto è molto difficile, ma... è la prima volta che va in bicicletta, quindi complimenti doppio a lui perché è la prima volta che sale su una bicicletta. È bellissimo, è il percorso davvero bello, sempre nei boschi, discese abbastanza tecniche e salite dure. Diciamo che la cosa migliore che un biker che ama davvero questo sport può desiderare. Terminata la gara, gli oltre 300 appassionati hanno vissuto un momento di convivialità, gustando le prelibatezze della cucina del posto e nel frattempo hanno avuto modo di socializzare e scambiarsi opinioni sul luogo e sul percorso e come sempre lo sport è diventato veicolo di promozione turistica. Un'altra bella alternativa che ci permette di far vivere ancora di più la montagna, quindi il turismo montano, quindi questa iniziativa ci permette di continuare a creare l'alternativa turistica con la presenza che oggi si è vista eccezionale, quindi sarà sicuramente uno di quegli sport che promuoveremo nel corso degli anni.